bene buongiorno a tutti grazie di essere qui benvenuti in questo nuovo contenuto dunque oggi faccio un video basato su lightning network quindi oggi ci focalizziamo su lightning su aspetti molto molto importanti di lightning che hanno sia una valenza tecnica perché andiamo a fare delle prove andiamo a provare alcune cose molto interessanti che adesso andrete a scoprire sia da un punto di vista diciamo di start con lightning perché capiamo l'importanza di lightning network quindi un video che tutto sommato anche se ha dei contenuti tecnici suggerisco tutti suggerisco anche a chi ha un piccolo background in bitcoin a chi si avvicina bitcoin e soprattutto a chi ha cominciato a sentire parlare di lightning network ma non diciamo non sa bene di cosa si tratta magari è spaventato da lightning network e cos'è che cosa non è e quindi è importante capirlo anche con questo tipo di video dunque prima di cominciare vi ricordo che il canale si occupa di bitcoin di lightning network di nostri di libertà finanziaria quindi se siete interessati a questo tipo di argomenti iscrivetevi gratuitamente al canale cliccando le notifiche attive in modo da non perdere ulteriori contenuti che rendo a disposizione gratuitamente su questa piattaforma su base settimanale a volte anche più frequentemente dunque tornando al topic di oggi lightning network ci dà la possibilità di transare effettivamente con bitcoin per cifre piccole per piccoli importi velocemente e quindi è il layer 2 che ci permette sostanzialmente di usare bitcoin per effettuare e ricevere pagamenti quindi è un elemento chiave dell'ecosistema bitcoin perché è l'elemento che ci permette effettivamente di usare lo strumento bitcoin per la quotidianità quindi la quotidianità finanziaria di ciascuno di noi quindi è estremamente importante capire questo dunque abbiamo parlato di nodi anche in precedenza e abbiamo visto come lightning network possa spaventare un po perché perché per essere totalmente non custodial normalmente dovremmo avere un nostro nodo lightning e avere un nodo lightning può essere complesso per il newbie perché ci sono delle skill necessarie è necessario tutto un background che molte volte non è a disposizione di chi si avvicina al lightning network quindi spesso si va su soluzioni custodial che secondo me comunque vanno bene all'inizio per cifre piccole possono essere adatte tutto questo è migliorato recentemente grazie all'introduzione di alcuni strumenti non custodial e di tipo cloud ne ho parlato anche qualche mese fa a lugano al plan b dove parlavo appunto di strumenti in cloud per far funzionare un proprio nodo recentemente è uscito uno strumento che io considero veramente veramente ottimo che si chiama phoenix d che è un daemon sostanzialmente che potete installare su un vostro su una vostra vps ed è molto semplice da installare incredibilmente semplice da installare vi consente di avere un vero e proprio nodo lightning che gira appunto in cloud quindi senza preoccupazione a parte vostra per quanto riguarda n mila cose che avreste da considerare con un nodo lightning quindi non vi dovete preoccupare bilanciamento canale apertura canale eccetera eccetera fa quasi tutto in modo autonomo utilizza un lsp che è quello di async che è l'azienda dietro appunto a questo strumento e la cosa importante è che il nodo è non custodial quindi le chiavi sono all'interno del vostro sistema quindi localmente dove andate a lanciare appunto lo strumento se avete delle perplessità su come fare installarlo in realtà è abbastanza semplice comunque trovate sulla mia newsletter massmux.org un articolo che ho fatto proprio a questo scopo quindi vi suggerisco di andarvelo leggere qualora siate interessati e di magari provare voi stessi questa installazione se non siete iscritti vi consiglio anche di iscrivervi a questa newsletter dove ci sono appunto questi tip abbastanza utili per tutti coloro che hanno intenzioni di approfondire la libertà finanziaria con bitcoin dunque adesso andiamo un attimo a vedere di cosa parliamo andiamo a fare qualche test andiamo a farlo insieme così cerchiamo di renderci conto di cosa parliamo come al solito credo che vedere sia più facile che parlare e ascoltare insomma entrambe le cose vedete qua di cosa parliamo allora su github trovate i repository di questo strumento che è appunto questo strumento è l'interfaccia grafica a phoenix d perché parliamo di interfaccia grafica perché perché phoenix d è un server quindi un nodo in cloud sotto forma di server che gira localmente abbiamo visto che per usarlo è a disposizione una sua cli quindi una sua un suo strumento alla riga di comando che può essere utilizzato ma che non è adattissimo tutti chi non è a dimestichezza con linux può far fatica oppure si possono usare le api api ben fatte molto ben fatte che però richiedono degli skill di programmazione per poter essere utilizzate adesso con questo strumento di cui parliamo adesso che si chiama phoenix d server ui è possibile e invece interagire col proprio nodo tramite un'interfaccia web di tipo pva quindi utilizzabile sia desktop sia su smartphone e oggi andremo un po ad utilizzarla e a lanciarla sul nostro nodo quindi questo repository qua c'è una descrizione di come funziona il sistema vedete che c'è una descrizione sul fatto che ci dà la possibilità di usare standard invoice di tipo bolt 11 le offer le nuove offer bolt 12 super super nuove lm url lighting address e quant'altro quindi è uno strumento abbastanza completo e tutto sommato l'ho provato e funziona in modo abbastanza buono per chi non se lo vuole installare installarlo magari può essere un po trick bisogna appunto creare il docker il container usando appunto il docker build lo trovate lo trovate già già pronto già installato a questo url che trovate qui che è wallet.nostrish.cc che è la interfaccia che viene reso a disposizione da dallo sviluppatore dunque adesso andremo a vedere come fare ad utilizzarlo in pratica allora la prima cosa da notare è che dunque questo adesso non ci torno sopra ancora una volta ma questo è sempre stato descritto in quell'articolo qui vedete come è semplice lanciare il nostro il nostro nodo come vedete qui è estremamente semplice adesso lo stop per farvi vedere una cosa adesso io qua ho fatto una piccola modifica nella configurazione per fare ascoltare il nodo sulle interfacce di rete esterna quindi in questo modo l'interfaccia http ascolta su sulla rete sulla porta 97 40 questa cosa non è standard e non va fatta in in un utilizzo di produzione l'ho fatta adesso per rendere possibile questa dimostrazione in un caso di produzione dovete lasciare che lui ascolti solo sull'interfaccia locale quindi 127 001 in modo che non si possa avere una connessione diretta dall'esterno per connettersi dall'esterno si può usare un proxy un proxy web tipo nginx per esempio tramite https in modo da esporre un'interfaccia con https cifrata in modo molto più sicuro non è lo scopo di questo video perché adesso ci concentriamo sul sul funzionamento di questa ui magari in un successivo video potremmo parlare anche di questo ma non è in questo momento l'oggetto di questo video per avere questo comportamento comunque vi rendo noto che ho modificato questo questo file di configurazione che vi consiglio di andare un attimo a giaminare molto importante vedete ho aggiunto questa 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 flag qui http bind ip l'ho settata uguale a 000 questo qui normalmente la potete omettere in quel caso si collega solamente all'interfaccia locale qua dentro trovate dei dati importanti come la anche la password http che è quella che vi servirà di qui a poco se adesso lanciate il comando di rete potete vedere le informazioni relative alla vps che stiamo usando questo anche ci serve tra poco andiamo un attimo a vedere allora la prossima cosa da vedere è qua dunque ora io mi devo collegare mi devo collegare mi devo collegare qua mi devo collegare in al mio nodo quindi per fare questo devo fornire al sistema queste due informazioni quindi cosa faccio sostanzialmente torno qua ok adesso intanto faccio di nuovo ripartire il il servizio in questo modo qua poi mi prendo giù quelle informazioni che avete visto prima dal file di configurazione quindi faccio ancora una volta il cut del file di configurazione mi prendo giù l'indirizzo ip della macchina e questo password qua queste sono le due cose quindi vedete adesso ho questo qui che mi dice qual è la porta in ascolto e poi ho questa è la mia password e per finire l'indirizzo del server è questo qua quindi ho tutte le informazioni che mi servono quindi andiamo un attimo a vedere cosa fare allora andiamo torniamo torniamo qui andiamo a incollare l'indirizzo del server comprensivo di porta 9740 e poi andiamo a incollare anche la password che trovate qua così ora facciamo save ecco qua questo già vuol dire che mi ha collegato andiamo un attimo a vedere cliccando qui vediamo qual è il node id come vedete questo è il node id per capire se è corretto adesso andiamo a guardare le ultime cifre e poi le andiamo a confrontare con il node id che vediamo qua come vedete è collegato correttamente quindi è collegato al mio nodo adesso molto semplicemente possiamo tornare ritorniamo qua e andiamo a fare receive per esempio andiamo a fare receive di 20 sats test abc diciamo mi può mi fa creare o standard un invoice quindi bolt 11 oppure mi fa creare una offer con bolt 12 la offer di bolt 12 è veramente molto nuova quindi al momento non trovate molti wallet che la supportano per cui adesso non possiamo provarla ma andiamo a creare un invoice standard come vedete facilmente crea l'invoice quindi questo già significa che il sistema è stato correttamente configurato adesso mi vado a prendere un mio qualunque wallet e vado a effettuare il pagamento di questo invoice semplicemente vado a scannare e faccio send come vedete non appena lo faccio ricevo la conferma che il pagamento è stato ricevuto e mi da il payment hash allora adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo alla riga di comando la riga di comando nel log del demone figura effettivamente questo pagamento questo pagamento quindi vedete che effettivamente ci troviamo un sotto questa voce fee credit 70 adesso andiamo a parlare di cosa si vede cosa ci troviamo che effettivamente sono entrati dei fondi questi 20 sat sono entrati chiudo qui si qui si aggiorna il balance ma il balance vedete ancora a zero allora questo non vi deve sorprendere non vi deve sorprendere perché trovate la spiegazione di questa cosa sul sito di phoenix d dove viene spiegata questa cosa cioè in pratica lo strumento vi permette anche di ricevere se non avete canali aperti anche piccolissimi importi in realtà questi piccolissimi importi non sono sufficienti ad aprire un canale quindi non viene effettivamente aperto un nuovo canale perché l'importo è troppo piccolo allora il pagamento viene comunque ricevuto e viene costituito come fee credit cioè come importo che vi verrà scalato poi successivamente per le vostre aperture effettive di canale per le vostre operazioni che farete nel momento in cui ci sarà effettivamente un canale aperto quindi questo è diciamo la situazione quindi in realtà questo pagamento è stato ricevuto è stato ricevuto correttamente non potete pagarli fuori questi soldi perché sono troppo pochi quando andrete a fare i vostri test fate una ricezione di pagamento di 10.000 sat almeno o 100.000 sat e vedrete che vi andrà ad aprire un canale quindi l'LSP quindi async in questo caso apriamo un canale per darvi inbound liquidity e permettervi quindi di ricevere questo pagamento allo stesso modo potete fare send quindi potete incollare qui l'invoice del vostro destinatario e potete anche effettuare come vedete qua la scansione ad un QR code che adesso non andiamo a fare quindi diciamo tutto sommato abbiamo uno strumento veramente completo così molto facile quindi tutto questo lo potete aprire direttamente dal vostro anche smartphone facilmente si tratta di un PWA e quindi questo vi permette di giocarellare facilmente anche con lo smartphone perché ovviamente essendo Lightning uno strumento che viene usato per effettuare e ricevere pagamenti è fondamentale che sia disponibile sui mobile perché nella maggioranza dei casi andrete a pagare usando uno smartphone quindi questo qui è lo strumento adatto per fare questa cosa quindi vorrei un attimo adesso che abbiamo visto tutto quanto fare un piccolo recap di quello che abbiamo visto e di come può esserci utile quindi abbiamo diciamo obiettivo di oggi è stato di vedere questa PhoenixD server UI quindi un strumento PWA web based che è un'interfaccia a un vostro nodo costituito con PhoenixD PhoenixD è un server, un nodo server Lightning Network creato da Async che gestisce anche la liquidità tramite LSP Phoenix quindi tramite Async e vi permette quindi di avere un vostro nodo 100% non custodial sul vostro VPS o sul vostro sistema locale con il minimo sforzo pagando delle fee ovviamente delle commissioni che vengono fatte pagare dal provider per questo servizio lo strumento quindi è eccezionale ma necessita di un'interfaccia l'interfaccia è appunto questa, questa è una delle interfacce possibili che potete usare come avete visto è molto facile utilizzare, lo trovate anche a disposizione qualora un domani questa interfaccia venisse tirata giù dall'URL che vi ho fatto vedere non è un problema perché potete installarvi la vostra o potete usarne un'altra inserendo i vostri dati e i vostri dati di connessione e vi connetterete ugualmente la cosa importante da ultimo è che se andrete a fare questa connessione in un sistema di produzione cioè in un sistema in cui effettivamente c'è un vostro nodo operativo con dei fondi dentro eccetera eccetera dovete farlo con delle accortezze maggiori quindi non una connessione diretta al nodo ma usare un proxy che si collega localmente e fare questo tipo di configurazione probabilmente andrò a fare un articolo su massmux.org su come fare questo tipo di configurazione di produzione quindi ecco fate attenzione a quello che ho fatto vedere oggi questa modalità di connessione è una modalità che abbiamo usato oggi per questo test per lo scopo di questo test ed è fatta in questo modo qua per oggi è tutto, grazie per l'attenzione mettete dei commenti, dei like lasciatemi le vostre opinioni su questo, condividete il video e per tutto il resto ci vediamo alla prossima volta iscriviti al nostro canale